Tavolo tecnico a Napoli presso la sede regionale di Via De Gasperi con il dirigente regionale unità operativa Bonifiche, i comuni interessati ARPAC ed Invitalia. Quest'ultima, nell'ambito del patto per lo sviluppo della Campania, ha il compito di progettare l'intervento di bonifica e di espletare le successive procedure per le gare di affidamento dei lavori per la bonifica dei siti di stoccaggio provvisorio ammessi a finanziamento dalla Regione Campania. A Battipaglia sono stati ammessi a finanziamento i siti denominati Castelluccio e Buccoli. Obiettivo dell'incontro è stato quello di consolidare con i comuni e con l'ARPAC lo stato di fatto attuale onde dare avvio alle operazioni esecutive del progetto dopo che Invitalia e S.p.A. ha comunicato di aver proceduto alla verifica e alla valutazione delle informazioni disponibili per i siti in questione.